Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Tragico lutto per il Festival di Sanremo, era amato e rispettato da tutti per il suo lavoro. E una grande icona del Festival di Sanremo, lascia la dimensione terrena a una persona che ha fatto la storia del Festival di Sanremo. E' morto nelle ultime ore il coreografo e regista televisivo e teatrale Gino Landi. Aveva 89 anni. Scoperto da Erminio Macario, Landi, al secolo Luigi Gregori, nato a Milano il 2 agosto del 1933, ha lavorato al cinema, in teatro e in tv, divenendo uno dei più affermati registi televisivi e teatrali del panorama nazionale e internazionale, collaborando con Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini e tanti altri. A lui si devono le regie televisive di alcune edizioni del Festival di Sanremo, del Festival Bar. Ha curato la regia e la coreografia di molte de Sanremo. Una grande figura di spicco che in questi ore purtroppo è venuto a mancare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.